La storia e il carisma di Donoreste Benzi approderà la giornata mondiale della gioventù di Rio de Janeiro, grazie allo spettacolo Con le scarpe e sempre ai piedi, curato e interpretato dal gruppo artistico dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Lo spettacolo andrà in scena il 26 luglio al teatro di Maracanà, grazie all'aiuto di enti privati e alle donazioni di tante persone. La comunità parteciperà alla giornata mondiale della gioventù anche con un altro evento, il concerto del gruppo di musica etnica popolare Asa Branca, previsto per il 24 luglio presso la conca acustica del polo universitario nella zona Maracanà. Attraverso la proposta di brani significativi, alcuni originali e la rielaborazione di musiche e danze provenienti di culture diverse, questo gruppo racconta l'incontro con le persone più povere ed emarginate che la comunità vive ogni giorno in Italia e nel mondo. Emanuela Frisoni, referente del progetto, sottolinea come siano ancora fondamentali i valori dell'uomo e come questi possono essere portati sul palcoscenico. Circa in 17 andremo a portare appunto lo spettacolo di Donoreste e un concerto di musiche popolari. Nello specifico, sullo spettacolo di Don Benzi, ecco ci sta a cuore portare quelli che sono i contenuti fondanti di quella che è stata la sua opera. Poter dire ai giovani che è ancora valore spendere la vita per questi contenuti, questo amore all'uomo, questo amore anche per l'uomo ferito dalla vita, questo bisogno anche di essere insieme per poter affrontare anche a volte la fatica quotidiana del vivere. Il prossimo step sarà l'apertura di un nuovo polo artistico nato dalla volontà di costruire un vero e proprio cantiere creativo aperto a tutti, anche a coloro che non fanno parte della comunità. A partire dal mese di ottobre, in uno spazio gestito dalla comunità, a pochi passi dalla parrocchia di Don Benzi, insomma di quella che era la parrocchia di Don Benzi, sulla superstrada di San Marino, lo spazio si chiama Piccola Piazza d'Arti e sarà un luogo in cui, come in una piazza, tante persone attraverso progetti di laboratorio teatrale, di musica, canto di insieme, danze popolari, lezioni anche individuali di strumento perché abbiamo anche dei musicisti molto preparati che da anni collaborano con noi e anche dei musicisti molto preparati che da anni collaborano con noi